Siamo qua oggi nella nostra bellissima piazza Cavallo per la 24esma, ci abbiamo pensato perché non ci ricordavamo, zampettata di Casale Monferrato, organizzata dalla Liga per la difesa del cane, dove qui ho la sua presidente Lucia. Questa è un'iniziativa che l'amministrazione comunale vuole sostenere, come vuole sostenere le tante attività che questa associazione porta avanti nel territorio. Sappiamo benissimo, e non lo ripetiamo perché potrebbero essere delle frasi fatte, che gli animali a quattro zampe non sono solo animali, ma sono parte integrante della famiglia e quindi è importante farli sentire parte integrante della nostra città. Questa è un'occasione con cui noi promuoviamo la nostra associazione, le nostre attività sul territorio, presentiamo alcuni dei nostri ospiti che sono accompagnati dai volontari e promuoviamo il nostro calendario 2025. Noi ci teniamo a fare questo evento sempre qui a Casale come città principale perché qui è nata la zampettata e qui ci teniamo a rinnovare il nostro evento tutti gli anni. Vi ringraziamo per la partecipazione e per il sostegno che riceviamo sempre e da tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dai! Fidiamo la coda, eh! Fidiamo la coda!